La mia città è l'unità di amica, la mia città è la mia città è la mia città è la mia città. Hai fatto questa carta di foto? Quale foto? Ehm? Guarda quella cosa, quella mia, hai capito? Ma che cosa viene? Eh, lui! Ah, lui! Ma non fa niente, non fa niente, non fa niente. Ma non fa niente, non fa niente. Cosa? Il mio filiale c'è io, il mio gestamento non ha questo, ricordate bene, di passare una bravissima persona e anche più intelligente, ricordo.